Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Finalmente stamattina sono riuscita a ritagliarmi qualche minuto per tornare qui con voi. È un periodaccio, ve l'avevo già anticipato nel video precedente, mi perdonerete però, insomma, quando riesco torno. In queste settimane mi sono arrivate tantissime cose che vi devo mostrare, pian pianino arriveranno anche altri video, What's in my bag, vlog, tra l'altro vi anticipo anche che mercoledì, speriamo bene, vada tutto come deve, vado a fare il microblending. Ve l'avevo anticipato anche quest'estate, comunque tramite Instagram in altri video, vi avevo promesso di farvi sapere. Se riesco farò un vlog, però non ve lo garantisco, dipende da un po' di cose, comunque magari vi terrò aggiornate su Instagram Per cui seguitemi anche là, mi trovate sotto la fashion. E nulla, bando alle ciance, la prima cosa che vi voglio fare vedere in questo video, e tra l'altro sono anche in ritardo, perché c'è stata l'uscita ufficiale di questo robottino il 30 settembre. Adesso come offerta lancio lo potreste, lo potreste, lo potete acquistare, eventualmente vi interessasse, con un 30% di sconto. Questa offerta è limitata, vi lascio comunque il link qua sotto, se volete darci un'occhiata. Sto parlando di questo robot dell'azienda Lephant. Questo è l'imballo, è un classico robottino per pulire e lavare il vostro pavimento. Io ne ho ricevuti vari in questo periodo, alcuni li ho regalati a mia mamma, altri li abbiamo portati alla casa al mare, uno ce l'ho a casa, non posso assolutamente più farne a meno, perché sono davvero un aiuto, per quanto mi riguarda, indispensabile, soprattutto per me, che vivo più fuori casa che a casa. Sono comodissimi e anche questo lo potete impostare direttamente da una app, per cui, per quanto mi riguarda, io cosa faccio? Prima di partire da casa, quando voglio tornare ed avere il pavimento pulito, l'ho imposto ad un determinato orario, a volte posso impostare il robottino che pulisca i passi solo metà casa o determinati locali rispetto ad altri, insomma, sono robot che potete gestire a 360 gradi. Sono davvero, a parer mio, comodissimi. Andando ad aprire la scatola, trovate questo primo, chiamiamolo coperchio, diviso in sei, dove vedete un po' tutto quello che trovate all'interno. C'è anche un codice QR per vedere un po' le impostazioni o comunque, insomma, le caratteristiche del robottino. Avete poi queste due confezioni con cinque panni, per cui ne avete dieci in scorta, per pulire, insomma, il vostro pavimento. Ci sono le istruzioni, questo, come potete vedere, si chiama Vacuum Cleaner F1 Series, dell'azienda Elephant, che è stato lanciato, è uscito sul mercato ufficialmente il 30 di settembre. E poi abbiamo tutti i vari assemblaggi. Abbiamo la stazione di ricarica piccolina, come vi ho detto, qua si va ad incastrare il robottino una volta che è scarico, per cui, guardate, davvero vi occupa nulla. Abbiamo poi, credo che sia esatto, l'alimentatore. Eccola qui, la spina classica. Poi abbiamo il robottino, come vi ho detto anche nel video, è piccolissimo. È davvero piccolissimo, guardate. Tra l'altro molto, molto carino. Sembra quasi marmorizzato. Bello, ma soprattutto piccolissimo. E poi, qua, vabbè, ci sono le spazzole, quelle che dovete attaccare sotto. E qua, ovviamente, il accessorio che serve per agganciare i panni che vi ho fatto vedere prima. E vi ricordo che ne avete addirittura 10 in scorta. Questa, invece, è una spazzolina che io ho trovato sempre all'interno anche degli altri robottini, che vi dico la verità, non ho mai utilizzato. Questo serve, insomma, per andare a pulire gli ugelli o comunque tutte le spazzoline che ci sono sotto il robottino, dove magari si possono incastrare, non so, peli, sporcizia varia. Ringrazio, quindi, tantissimo l'azienda per avermelo inviato, ma soprattutto per avermi dato l'opportunità di parlarvene. Vi ricordo che avete, adesso, un 30% di sconto, ma comunque trovate il link qua sotto nell'infobox, anche solo per andare a sbirciare il sito, per andare a vedere, insomma, meglio tutte le funzioni di questo robottino, che, a parer mio, è una manna dal cielo. In generale, proprio questi dispositivi sono comodissimi, soprattutto per noi che viviamo più fuori casa che a casa, appunto. ragazze, tornare e trovare il pavimento pulito, per me è davvero una manna dal cielo, soprattutto perché vi ricordo che non ne ho uno, ma ho ben due topine e due cagnolini. Arrivo anch'io nel mostrarvi che cosa ho preso di Chiara Ferragni, perché dovevo farvi degli altri back to school. Ne avevo due in previsione, ma non sono riuscita a registrarli prima. Tra l'altro, in questo sacchetto, che pesava il doppio, c'erano tantissimi altri pezzi, che non vi posso far vedere, perché li sta usando Emma in questo momento, è a scuola, per cui non vedrete tutto. Comunque, sono l'ultima che vi mostra le cose di Chiara Ferragni. Abbiamo comprato il diario, perché quest'anno potrà avere un diario suo, per cui voleva quello di Chiara Ferragni, poi mancano, manca un altro quadernone ad anelli, degli altri quaderni, e credo basta di Chiara Ferragni, non dovrebbe esserci altro. Ho degli altri sacchetti che sono ancora messi da parte per un altro back to school che dovevo registrarvi. Non so se mostrarveli, scrivetemelo nei commenti, se vi fa piacere vedere anche altre cose che ho comprato per la scuola, per Emma, che comunque sono ancora nuove perché non le ho ancora utilizzate, per cui sono ancora tutte imballate all'interno di questo sacchetto, che è nuovo lì nell'angolo da tre settimane. Scrivetemelo nei commenti, non volevo farvi due scatole così nel farvi vedere altre penne, pennarelli, adesso non mi ricordo, evidenziatori, insomma, in base a quello che mi scriverete nei commenti, deciderò se registrarvi anche l'altro video sulla cartoleria. Prima di farvi vedere però un pezzo che ho comprato sul sito di Chiara Ferragni, vi faccio vedere il quaderno, un quaderno, uno dei tanti che li ho preso, questo è a quadretti. Poi avevo preso il quadernone, anche rosa, quello invece è in uso, è un classico quadernone ad anelli. Poi avevo preso questi quaderni che credevo le servissero per scuola, ma da quello che ho capito vogliono solo quadernoni, per cui questi li terremo qui a casa, insomma, quaderni vanno sempre bene. Ne avevo preso uno a righe e due a righe e uno a quadretti. Questo è carinissimo con Matilda, credo che si chiami, comunque è il cane di Chiara Ferragni. Questo con la sua caricatura e questo tutto lo grafico uguale a quello grande. Poi, volete che non acquisti gli astucci di Chiara Ferragni? Tra l'altro io li avevo acquistati in un momento in cui erano sold out dappertutto. Adesso ho sentito che, e io non l'ho vista, comunque la linea di Chiara Ferragni l'hanno portata anche da Lidl. Bene, mi sparerei in testa, perché non vi dico le corse, i giri, le telefonate che ho fatto tra le varie amiche per trovare tutta la linea, perché in realtà io l'ho spizzicata quando l'avevo acquistata a settembre, un po' di qua, un po' di là, gli astucci, uno l'avevo preso da una parte, uno da là, insomma, va bene. Lasciamo perdere, adesso, vi ripeto, li trovate anche da Lidl, apro e chiudo parentesi, magari anche a un prezzo minore di quelli che li avevo pagati io, comunque va bene. Insomma, sono due astucci in silicone, io sono l'ultima che ve li fa vedere. E poi avevo preso, e questi sono ancora nuovi, due, non una, ma due confezioni, perché sia mai che si consumino e dopo non abbiamo la scorta, di matite, carinissime. E anche la confezione, una confezione di gomme, sapete che io faccio la collezione da quando ero piccola, per cui bisognava avere anche le gomme di Chiara Ferragni, insomma, avevo preso la linea completa. Oltre alle cose di cartoleria, però, ho fatto un acquisto anche sul sito online di Chiara Ferragni. Tenevo d'occhio questa borraccia che era uscita molti mesi fa, contate che era rimasta online nemmeno 24 ore, poi era andata sold out, introvabile, insomma. Un giorno mi manda un messaggio, un'amica, e mi dice, guarda chi è disponibile. Bene, non ci ho pensato due volte, l'ho ordinata immediatamente, mi è arrivata nel giro di 3-4 giorni, 3 giorni, forse perché tanto per cambiare, io quando acquisto online lo devo fare di venerdì sera, per cui di mezzo c'era il weekend. Comunque contate che in un paio di giorni vi arriva, tramite corriere, state tranquille, tutto tracciato. Finalmente ho trovato questa benedetta borraccia che volevo da un bel po' di mesi. Mi ha invogliato l'acquisto anche perché è fatta dall'azienda 24 Battle, che è un'azienda leader top per quanto riguarda le borracce. Io ne ho già una, è una borraccia fantastica, mantiene benissimo sia il freddo che il caldo, per cui insomma ho deciso di acquistarla. La borraccia, cosa dirvi, è stupenda, tra l'altro non è di grandissime dimensioni, per cui è comoda anche da tenere in borsa, credo che tenga 500 ml, credo, non ho ben capito, comunque dovrebbe essere circa mezzo litro, e vi dice che mantiene il caldo per 12 ore e il freddo per 24 ore. Vedete? No, ma a parte il pack della scatola, cosa ve lo sto a dire? è tutta glitterata, adoro, e questa insomma è la borraccia, è bellissima, un bel pollice in su solo perché ho aspettato quasi tre settimane nell'utilizzarla per farvela vedere, nuova, cioè non l'ho ancora nemmeno sballata, l'ho aperta in questo momento con voi, top è la top, sto scherzando ovviamente nel dirmi top, ma non sto scherzando nel dirvi che l'ho aperta in questo momento con voi, è bellissima, è davvero bellissima, poi ragazze, mi è arrivato anche, anzi, no, prima di farvi vedere quelle cose lì, finisco con Chiara Ferragni, ho acquistato, e queste due giorni fa le ho inserite qua nel sacchetto perché mi ero già segnata che vi avrei registrato questo video oggi, ho trovato da S.Lunga finalmente anche questi due prodotti della Pantene, sempre in collaborazione con Chiara Ferragni, ho voluto fare insomma un video dove vi facevo vedere tutto quello che avevo acquistato, a parte quelle tre cose che vi ho detto che sta usando Emma, di Chiara Ferragni insomma in un unico video, ho preso questo shampoo, tra l'altro ho già guardato un sacco di recensioni, e ne stanno parlando tutti benissimo, sia dello shampoo che della maschera, per cui spero che vadano bene anche per quanto riguarda il mio capello, ma soprattutto spero di potermene parlare in un secondo momento anch'io in maniera positiva, questo è il Rigenera e protegge e protezione cheratina della Pantene appunto, e questa è la maschera protezione, sempre la cheratina, rigenera e protegge, guardavo se mi diceva altro, with Pro V, Chiara Ferragni e basta, 300 ml e questo invece da 250, la maschera se non ricordo male l'ho pagata su tra i 4 e i 5 euro, mentre il balsamo, lo shampoo un po' meno di 3 euro, li ho trovati da S.Lunga, prima di salutarvi però vi aggiorno sulle ultime puccioserie che mi sono arrivate sempre da Aliexpress, un pacchetto credevo che fosse andato perso, tant'è che ero lì per aprire la controversia con il venditore, per fortuna non l'ho fatto, contate che queste due cosine che ho preso sempre da un unico negozio, credo di averle ordinate, non voglio esagerare, due o tre mesi fa, cioè ormai avevo perso le speranze, tant'è che avevo già in mente di riacquistarle, una volta che fosse stata risarcita, perché per chi compra su Aliexpress sa che dopo che scade la protezione per l'acquirente, potete aprire una controversia e comunque al 90% delle volte venite risarcite, insomma magicamente è arrivato, me l'ero anche dimenticata, per cui sono stata contentissima, e poi è arrivato, vi ricordate nel video precedente che vi avevo anticipato che dovevo ricevere, un altro specchio sempre dal famoso venditore, il mio preferito, vi ho lasciato anche il link, e vi aggiungo che mi ha detto che se voi li scrivete potete parlargli tranquillamente in italiano, un messaggio e gli dite che state acquistando perché avete visto il video di Ella Fashion, vi farà un bellissimo sconto, e tra l'altro come vi dico e vi avevo già detto nell'altro video, vi fa sempre un sacco di omaggi, per cui tenetelo a mente. Allora vi faccio vedere innanzitutto lo specchio, dai parto da lui, che arriva appunto dal mio amatissimo venditore e dal negozio, se non ricordo male Roku Store, comunque vi ho scritto tutto nel video precedente, se mi ricordo ve lo linko qua, nell'eventualità scrivetemi un commento e vi faccio sapere tutto, ho preso questa meraviglia di My Melody, My Melody ormai credo che sia il personaggio che mi appassiona di più in questi ultimi anni, quasi più di Ella Kitty, infatti sto meditando un nuovo tattoo con lei, comunque vedremo. Questo è uno specchio che come potete vedere si apre, è uno specchio che vi avevo detto, che avevo intenzione di tenere in borsa, credevo fosse un po' più piccolino, tipo nell'AMETI credo proprio che non ci stia, ma in una borsa più grande sicuramente lo inserirò, perché è bellissimo, bellissimo, è davvero stupendo. E poi ragazze, a proposito di omaggi, guardate che cosa mi ha regalato, mi ha regalato questa penna, non ricordo se l'avevo già ricevuta negli ordini, che vi ho fatto vedere nel video precedente di Aliexpress, e poi sempre omaggiata questa bustina piena a zeppa di adesivi pucciosissimi a tema Sanrio. Adoro, adoro, io davvero, cioè un venditore così non l'ho mai trovato su Aliexpress. Per quanto riguarda invece il pacchetto che vi ho appena menzionato, credevo fosse andato perso, mi sono arrivati anche loro, che cosa sono? Sono due portachiavi che voi potete utilizzare per contenere le monete, per contenere qualche spicciolino, oppure, perché no, le cuffiette, anche per inserire le vostre cuffiette. No, vabbè, ma cosa ve lo sto a dire? Quanto carini sono! Ho preso questo di Hello Kitty, tra l'altro ci sono tutti i personaggi della Sanrio, c'era anche, oddio, adesso non mi ricordo, comunque tipo la ranetta, il cagnolino, mi sembra il pinguino, li avrei presi tutti, davvero li avrei presi tutti. Tra l'altro sono anche abbastanza grandini, molto comodi, in silicone ovviamente, super pucciosi. E poi ho preso My Melody, My Melody Hello Kitty, sono nel mio cuore, per cui dovevano esserci tutte e due. Vi ripeto, li avrei acquistati tutti, davvero tutti. Bellissimi e sono soprattutto contenta, perché finalmente mi sono arrivati. Basta ragazze, questo è tutto, termino qua questo video, spero non sia stato troppo lungo. Ho altri sacchetti qua da mostrarvi, adesso vedo a che punto sono, vedo se riesco a registrare direttamente stamattina, altrimenti non so quando riuscirò, ma insomma ce la devo fare, perché ho tante altre cose da mostrarvi. Fatemi sapere nei commenti, insomma, se vi è piaciuto. Per qualsiasi cosa chiedete pure, sapete che sono sempre molto contenta di rispondervi. qualora non ce la faccia qua sotto via YouTube, scrivetemi anche in direct, in Instagram, che per me è molto più veloce. Basta, vi mando un grande abbraccio, un grande bacio, e ci vediamo, spero, prestissimo, qui in un nuovo video. Ciao a tutti!